ben tornati welcome back this is firecraft my name is tlysen and this is dart wills we don't give a fuck about this guy ok siamo rimasti alla selezione del druido quindi scendiamo questo druido ok rimasti quando abbiamo chiesto il druido qui siamo una settimana senza fare qualcosa ok abbiamo il druido e cominciamo a prendere le card che sono random e come puoi vedere è una buona selezione di card perchè mio amico è molto felice con quello che è venuto questa volta ok le card epic le card questa è una scelta che uno dovrebbe fare in fondo ok questa è una scelta che dovresti fare all'inizio ok perché questa carta viene usata bene in arena se ha un mazzo dietro che ha delle che lo supporta che ha delle carte che costano tanto che hanno degli effetti molto forti quindi è facile perdere molta vita prima di allenare la fase iniziale del gioco con questa riusciti a recuperarla tutta ok question quale tipo di decks puoi costruire con un druido? quale mazzo? non ho capito la tua domanda caro mio che tipo di mazzi puoi costruire col druido in generale in arena? tutti allora il discorso sei in arena puoi costruire qualsiasi mazzo con qualsiasi classe ok esatto in base a quello che ti esce fuori ok che dovresti costruire? però conoscendo il druido ok puoi puoi fare un mazzo control un mazzo agro la sintesi è questa ok tu hai ascoltato quindi è oltre un control o un agro ma ma se uno non può per fare un mazzo control fatto bene uno deve conoscere almeno metà del mazzo ok quindi se vuoi costruire un deck control devi sapere almeno la parte della tua deck un consiglio generale per tutte le arene le prime dieci carte quelle che reputate più forti ok una regola generale per l'arena i primi 10 piccoli prendono le carte che pensi sono le più forti le restanti 20 servono ad aggiustare il mazzo intorno prendono le restanti 20 carte per aggiustare e balanciare ok quindi le primi 10 carte sono le più importanti che diamo le basi per il tuo deck e le restanti 20 sono quelle che costruiscono ma comunque abbiamo una difficile scelta qua e abbiamo una delle più difficili scelte perché hai bisogno di scegliere quale tipo di deck vuoi creare all'inizio inizio inizio ok la difficile scelta ok perché questa carta nel 60% dei casi è controproducente mi porta la sconfitta mi porta la sconfitta questa è una double-edged card perché può anche significare che stai perdendo questa card perché perché vi fa finire il mazzo e finendo il mazzo non avete più possibilità di decidere per il suo effetto che c'è scritto sopra voi la giocate il tuo attraversario gioca 4 carte e avete finito il mazzo è molto forte il mazzo agro è buono per un agro perché è molto forte forte e effettivo quindi la giocata di quinto turno ma già il vostro avversario sta a metà vita quindi potete ucciderlo facilmente ok è buono per un agro perché questa di solito è una carta inutile ma è il pick più sicuro fatto di primo turno perché non sappiamo come dove andiamo a fare né dal lato o dall'altro quindi io questa la sconsiglio quindi qui c'è un pick un 6-5 a 6 ok che è un'abilità che non mi piace oppure una cura tutti che può curare me e lui e l'avversario si ok quindi questo è quello che fa meno danni ok ok siamo a prendere l'avversario in questo caso quindi siamo a prendere l'avversario anche se si ok di queste tre carte questa è brutta non ti spiego neanche il perché questa è molto buona in mazzi in cui subiscono molti danni quindi o nel rogue che si parlava prima o nel warlock ok questo è buono per i rogues e i warlocks non per i druidi perché è buono per gli ex che ottengono molti danni e hanno sostenuto questa è in arena generalmente forte in tutti i mazzi questo è un evergreen quindi siamo a prendere l'avversario che belle scelte questa è forte forte in tutti i mazzi questa è sempre una buona carta da prendere se non avete creature grosse questa è un'ottima scelta ok se non avete grandi creature nel tuo deck questa è una buona scelta anche questa è una carta forte in molti mazzi se faccio una regola generale perché almeno la gente capisce stiamo parlando ovviamente queste sono le carte generali quindi queste sono buone per ogni tipo di deck stiamo parlando di ogni tipo di deck stiamo parlando che puoi usare quindi non è solo il druid ma in generale qualunque classica queste carte sono principalmente buone tutte le carte che hanno un costo di mana che è pari alla media dell'attacco alla difesa sono sono normali ok ok escludo l'effetto ti parlo ok senza considerare l'effetto della carta se hai una carta che ha il costo di mana che è un medio tra l'attacco e la difesa e la salute della carta è una carta detto questo tutte le carte che vi danno la possibilità o non sicura o sicura di avere un'altra creatura oltre la creatura che mettete in gioco sono molto forti ok quindi se invece che ha un'effetto che ciò che è 100% che che ciò che ti 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 che ti dà anche un altro creature, come il death raffle per il partito di Shredder che, as soon as it dies, ti dà un altro creature o il 1-1 Silverhand Recruit che ti dà quando ti usi la tua propria hero queste carte possono essere considerate meglio di normali perché ti dà più creature con la stessa mana costa ok, siccome questa è una creatura più sicura rispetto a questa ok, siccome questa è una creatura più sicura perché, as soon as it dies, ti dà uno e poi prendiamo quella ok, beh un'altra scelta questa è pessima in quasi tutti i mazzi a meno che non avete già nel mazzo, nelle carte scelte, molti death rattle ok, buona scelta, se in realtà non hai molti death rattle nel tuo deck non vuoi creare un deck sull'attività questa è molto forte perché oltre a giocare una carta che è vero che non ho una che costa due ma è sempre una carta in gioco vi dà una carta in mano a scelta tra tre che giocherete comunque il turno successivo perché se costa due, costa tre ok, questa è una buona carta perché anche se la mana costa è più grande non è più grande che l'average della sua salute e del damage la sua potenza è abbastanza buona perché ti dà una card 3 costa della tua scelta che ti giocherete nel prossimo round perché se puoi giocare due mazzi, nella prossima round puoi giocare tre mazzi questa è una carta che non ha niente di particolare questa è solo una carta una brutta scelta pessima carta la migliore di quelle che abbiamo qua perché ha un 1-2-1 con abilità ok, non penso che ho bisogno di esprimermi questa ma questa è la migliore carta delle tre ok considerando questo io prendo questa carta qua perché è un 2-3 a 2 che ha una possibilità di diventare più forte da solo e non dobbiamo più investirci niente ok, parliamo del average e della costa di mana costa questa è una carta di mana costa di mana costa che in realtà può diventare più forte quindi, perché non? stesso discorso di prima muore, gioca un'altra creatura ok, quella è un'altra creatura, per favore quindi dobbiamo prendere quella allora, pessima creatura buona creatura a meno che mana è un mazzo fatto apposta ok, se hai un deck per favore di questa creatura non vuoi quella pessima creatura perché non possiamo giocare segreti ok, pessima creatura perché non possiamo giocare segreti ultima soluzione ah, sì il lesser evil, ovviamente questa è una scelta molto difficile questa è la nostra scelta tra i due però questa creatura ha più sopravvivenza di questa nonostante costa solo un in più ok, ahm Questa è migliore perchè ha raggiunto le ragioni Ok, questa ti dà una carta di paladino in mano, quindi è abbastanza buona Non solo sulle creature sull'interno o sull'interno, ma anche sulle caratteristiche sull'interno Tutto questo è meglio che l'avverso Quindi tutto ciò che ti dà l'interno sulle caratteristiche sulle caratteristiche sulle caratteristiche sulle caratteristiche sulle caratteristiche A questo punto dovete scegliere, quando c'è una scelta del genere dovete fare una scelta tipo Qui hai una carta forte con motivazione di prima Ok, questa è una buona carta perché, ancora, una carta e tre creature Questa è una buona scelta Questa è molto forte, però dovete guardare quanti battlecray avete Perchè vi fa ritornare una carta in mano Quindi scorrete la lista delle carte, guardate quanti battlecray avete E fate un'opinione, cioè dovete fare una scelta se giocare questa o questa Ok, questa è stata buona perchè, in caso il tuo deck ha molte battlecray Queste due carte sono molto carine Ma questa è più solida per essere capito Perchè è più solida, perchè ha assai di vita e è difficile da tirare giù Ok, un po' di salute e anche un buon potere No, un po' di potere, non prendi quello Questa è molto forte, è una delle carte più forti in arena Ok, una delle best carte in arena Perchè è un 9-7 che fa 4 danni Ok, esatto Che è difficile Mi piace il murloc No Questa è molto forte, ma è molto difficile che può scegliere Ma non mi può portare la vittoria Ok, potrebbe essere buono Perchè ti portare alla vittoria Perchè l'enemio potrebbe Perchè ti portare la vittoria Vabbè, perchè continuo a piccare Ok, questa è una diversa Ma siccome non abbiamo la possibilità di rimuovere armi Giochiamo questa Ok, dovremmo prendere quella perché possiamo distruggere le vittoria Quindi non sai mai cosa ci saranno E questa è un'altra decisione difficile Questa è molto forte, ma non è proprio... Sì, Giovanni ci ha fatto la vita una volta Ok, questa è buona perchè Può essere un rispettatore Ha sempre provato una buona carte Nel pasto, quindi dovremmo prendere quella Quando spara di spell Rimoval e peschini sono forti Quindi potrà fare entrambi Ok, ogni spell che ti dà Un rispettatore O che ti dà A creare le carte E' buona E' buona E' buona E' buona Questa è una carta molto forte perchè Vi Dà un mano in più Cioè riuscite a giocare le carte Prima dell'altro Che guadagnate male E' anche facile da distruggere E' anche facile da distruggere Ma... Questa carta Dà l'altra parte 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 E' buona perchè Puoi Summonare E giurare più carte Che l'opera Quindi può essere molto utile Anche se è facile Per distruggere Ok Prendo un taunt perchè non l'abbiamo We need taunt So why not Altri... Again the same rule as before Questa carta è bellissima That card is good because it actually buffs 2 cards Dandogli taunt Entrande Giving them taunt Ok Siamo arrivati a un punto in cui Abbiamo un sacco di carte agro Ok At this point we have to check For the mana curve And We have a lot of Low Mana cards So it's gonna be a very agroish Questa è molto forte Perchè Prende Prende Ok La sua abilità è molto forte Se avete tante carte in mano Ok This one is good If you have a lot of other creatures In the battlefield So This is an Agro deck So at this point That could be a good choice This Questa è forte al top deck That's just good If you pick and Play it Down So why not Ah Questa è la mia preferita Macbomber è Un favorito So Vabbè Perchè da taunt Ok That gives taunt So We're gonna play defensive a bit Now Questa va in combo con Macbomber Però abbiamo troppo quei alti Pick a 2 Quindi prenderò una pick a 3 Ok at this point we see Oh No 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 Ok So we have to check Because we have to have too many 2 mana creatures This is a bad pick Pessimo pick It's the last one I pick the mobility It's a bad pick But better than the rest It's a bad pick It's a bad pick It's a bad pick But better than the rest It's a bad pick It's a bad pick So it's bad because it's an aggro deck Ok Questo è il mazzo Quindi This deck We're gonna try this one At least once Una partita è totalmente tutto veloce Ok We're gonna speed this one Because It's gonna make it Ok Oppure We'll do this next week Ciao ragazzi Goodbye Bye